bella ragazzuoli oggi audi a6 facelift o road allora molto particolarina nico che viene da merate ok ci ho preso 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 corretto giusto giusto allora nico aveva un volante che aveva precedentemente installato solo questo è un volante r8 che oggi è venuto qua per farlo funzionare allora vediamo se va vai nico premi il tasto start ok accensione da volante in questo caso su ttrs r8 questo uno scaglione come r8 airbag pelle palette rs andiamo a vedere vario funzionamento allora drive select se premiamo la modalità di guida cambia e in questo caso essendo uno road essendo con impianta aria nico che fa si alza e si abbassa nico mi ha chiesto ricco facciamo una modifica mettiamo il telecomando della gestione degli ammortizzatori nel volante quindi adesso se nico premi il pulsante sotto il drive cosa succede vediamo ok